Ben ritrovati, questo è il canale di Fratisen e oggi, nonostante le aspettative diverse, il mio progetto diverso, sono ritornato a fare un vblog su The Witcher, perché dici questo? Perché in realtà io non avevo voglia di continuare con Geralt, non perché non mi piaccia, ma perché ero annoiato dalle quest abbastanza piatte, però c'è qualche cosa che mi spinge a continuare. Grazie 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 a tutti. 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 Ma perché fai così? Allora, ecco che questa è un'altra cosa che non sopporto. Cioè, se il nemico più vicino a me è quello là, ma perché cavolo me lo fai andare a aggredire? Mi fai andare a aggredire l'altro? Che c'è qua? C'è un intero villaggio? Demolito? Dottor Fiore per me potrebbe... Sto trovando molto noioso tutto ciò. No, non so atteggiare l'altro, ma... C'è qualcosa di buono qui? Ok, grazie. Ok, grazie. Andiamo! Mi hai fatto entrare, non mi puoi non far uscire. No, 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 non mi puoi non far uscire. Ho capito... Vai, non mi sembra un granché. questa altra è un bel oi eccoci va visto? era facile beh non c'è niente interessante come on ah certo King Forest fosse fallito cosa c'è lì? aspetta un momento aspetta un momento aspetta un momento aspetta un momento peggio un elementare della terra di altissimo livello non mi dire mi segue via di livello molto elevato non lo posso affrontare oh nilfer gardiani meno male vediamo un po' cosa dicono ciao posso entrare? no in realtà no ah è richiesta l'uniforme ho capito è richiesta l'uniforme quindi basta un uniforme nilfer gardiana per entrare no? ciao Laina, lei ha esercito, grazie a vostri potente. È bello vedere un soldatore di Nielfgaardia così preoccupato sull'esercizio di un'esercizio di un'esercizio di un'esercizio. L'esercizio, quando il Griffon ataccò... Un passiamo vostro per un incontro. L'esercizio di un'esercizio 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 a me dispiace però francamente era forse l'unica scelta possibile tu sei un mercato cosa vendi? niente di utile ma tu acquisti anche? non un gran che? non acquisti nulla praticamente questa roba costa molto poco guarda te la do solo perchè mi pesa perchè ne posso fare tante e lei la questa? e lei la questa? e lei la questa? perchè sei venuta a sapere? perchè sei venuta a sapere? I soldati hanno detto qualcosa e non è riuscita non è riuscita si servis il mio figlio non è riuscita io ho bisogno di chiunque il mio figlio penso che sia uno di quei famosi casi nel quale è meglio sapere cosa è successo al tuo caro anche se è morto piuttosto che non saperlo si va bene non è riuscita non è riuscita non è riuscita non è riuscita un pezzo di foglio un pezzo di nordgardiano? suo padre ha scoperto da Magturgare i persone hanno le qualità mio figlio ha avuto questo traitto e altri da suo padre posso racconto a tua scopo? bene faccio il mio meglio per aiutarti non lo farai ero questa non è riuscita Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Canta per la pappellina. Tu invece cosa vedi? Sollam. Canta per la pappellina. 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 Ma iniziato. una piccola unità, isolato l'area potrebbe essere venuto a voi con piacere un sacco di yogurt in raggede foot wrappini cut down a unità di imperial scouts cosa altra? magari un dragone si è un blu di yoke va bene, però non c'è ok, vediamo Allora, vediamo un po' come se... Vabbè. Però vedi, questo è brutto, perché non ti dice usa i tuoi sensi di Witcher per trovare il ragazzo. Dice, usa i tuoi sensi di Witcher per trovare il cadavere. Cioè, ti dice già che sono morti. Questa è una cosa che non sopporto. Ma perché mi devi spolerare alla fine della quest, accidenti a te? Questo è un pastore. Che disastro l'hanno fatto. E d'altro canto un esercito così grande per poter funzionare ha bisogno di tantissimo. che è il loro set di armatura. Grazie. Facciamola veloce e rapida. Un guento antinecrofagi, migliorato. Molto antinecrofagi, migliorato. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non devi farlo con furbizia, non devi farlo in questa maniera. Devi farlo dopo una battaglia estremamente dura. E ti nascondi. Dicino al circolo ufficiale, tra l'altro. Dicino al circolo ufficiale, non devi farlo in questa maniera. Dicino al circolo ufficiale, non devi farlo in questa maniera. Dicino al circolo ufficiale, non devi farlo in questa maniera. Dicino al circolo ufficiale, non devi farlo in questa maniera. Posso dire una cosa? Queste sono le... Le queste che mi piacciono onestamente. Grazie a tutti. 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 Antibestia. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. no... a tutti. a tutti. hanno ucciso. questi soldati. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. e tutti. no... che è questo? a tutti. Grazie a tutti. Eccolo. Eccolo. Sei cretino. Io pensavo fossero dei necrofagi invece, figurasi. E' un gruppo di tizi che si era messo qua a fare un po' di scout. Vabbè. Ci mancavano anche i lupi, tanto per gradire. Vabbè. 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 Sì, non è vero. Abbiamo trovato qualcosa di altro, non ti senti a quelli fuori a scuola, era una squadra morta, lasciano alcuni prigionieri di Redanian, li eseguivano. La guerra è così, chi perde, morirà. Ci sono uomini che non sono lasciati, qualcuno viene chiedendo loro. In Nilfgaard, ogni soldato che ha preso preso è come se morto. Questi preso erano da Redania. Prima di essere una provincia imperiale. Prima di Seovin, io vado, il grande Sun si avvicina sui banners. Va bene, paga. Va bene. Io però in questo caso sarei per prenderla alla paga. Primo perché siamo al secco, secondo punto perché è francamente inutile... Il secondo... Il secondo... ... Cioè io onestamente dire paga perché... Non mi sembra il caso di... ... 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti paga i soldi e va fantastica. No, aspetta, non è finita. Buon uomo. Non ha nient'altro? No, non è finita. Show me what you're battling. So long. No, non è finita. 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 Non ci sono più queste qui O credo che si spacciano per tali Posso fergiarmi? Ci sono delle armature nel fergardiane? Bella questa, spada delle torpaie Acciaio nero, bello questo Molto molto bello come arma Ma? Eh io questa me la vorrei fare però La spada d'argento del grifone mi spiace La vibra non è un gran che però Spada d'argento perfetta Figa anche queste 200% mamma mia Spada d'argento del grifone migliorata Oh la madonna Grazie a tutti 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 Niente non ci posso fare nulla Senti io salvere un attimo la partita Salvo tutti Aiuto tutti E chi mi ha seguito Lo ringrazio Ci vediamo dopo Grazie a tutti Grazie a tutti